Presidente Oberach, quali sono le condizioni quadro di cui ha bisogno l'Alto Adige del futuro? Intanto questa crisi possiamo affrontare solo insieme, vuol dire insieme in Europa con un tetto dei prezzi del gas, vuol dire con l'aiuto in Italia che ci sono meno tasse sul lavoro, vuol dire che i nostri collaboratori hanno più netto del brutto, e in Alto Adige sono poche le leve, una che possiamo investire in fotovoltaico, che si riduce la burocrazia in questo, e secondo che le aziende che fanno perdita non devono pagare tasse sulle perdite o pagare ancora più tasse come l'anno scorso, vuol dire ridurre l'IRAP. Sulla questione caro energia, da più parti politiche, si parla che in Alto Adige si paga forse troppo per quello che si produce, lei è d'accordo su questo e cosa andrete a chiedere voi come imprenditori alla politica? Ma questo è un tema difficile, credo che l'Alperia o anche in provincia sono limitate le possibilità in questo. Grazie.